Musica Ciao a tutti ragazzi, sono AirMav e sono qui con Payday2 Andiamo alla scoperta di questo fantastico gioco Almeno questo è quello che dicono Ma poi io ancora devo provare Allora, cavo segreto Sarà una specie di tutorial Proviamo, ha detto lui Vabbè, sono lì i tasti Sì 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 Oh, ma che urla Che cazzo urla Cosa gli urlerà ragazzi? È una bella domanda Sì, il caricamento è un po' lentino però Mi sa il quanto sfracassando ragazzi Sì sì Quello è poco Ma sicuro Allora, cavo segreto la vostra casa Secondo me la casa Vabbè, non so Decide Io mi fido Allora Allora Il furgone Benissimo Allora Bene Bellice Bellissimo Bella casa di merda Ragazzi Aspetta la chiamata Uh, un urso a chiot Chi me li ha chiamato? Io non c'ho un cazzo Il filo è vuoto Allora, vediamo Non ho fatto niente Non ho fatto niente Ah, ti prendo rischio come sempre Va bene Sì 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 Va bene Uh, chili Buono Dietro la cucina Dietro la cucina Ma è sempre Nei porti da solo Ma è un gioco horror O è un gioco di rapine? Oh, si comincia a ragionare Finalmente armi ragazzi Che spettacolo Ahah Indossiamo la maschera Ready up Ready up Spettacolo Un altro pacco che ti aspetta Nel gioco il filo è fuori Oh, si deve per un'altra volta Porta la sua Bellissima Uh, che spettacolo Se mette con quel furgone Ci fanno le rapine E adesso Chi è? Oh, è la madonna Che lancio Ma dove gioco? Oh, Dio Che ce faccio? Ah, ragazzi È lentissimo Hanno simulato anche il peso Spettacolare Spettacolare Come la lancio? Ah, è lb Oh, dai Ah, è un girozzoletto Ma chi è? Obiettivo Attivato Ok, raccogli i soldi Come li raccolgo? Ah, ecco Dice Spettacolo E ora che me li sa più? Ok, ecco Questa è il caosidio Non vorrei coltare il tuo nome Ah, ok Devo regolarlo anche un po' Sì, va bene Come faccio a decorarlo? Che dovevo farlo? Spettacolo Ma che spettacolo Mi piace Stato Oh, bello Cosa Mi piace Uh, tutte le mie Che sapiccia Crime net In situazione Di ricorda Adesso C'è le gambe di sicurezza Va bene Ah, che spettacolo No, le posso anche Incomandare Ma che spettacolo Ragazzi Vabbè C'era poi Aspetta, che cos'era? C'era una X C'era un quadrato Scusate Questa cosa? Va vabbè Questo Vabbè Lascio stare Sto coso qua Non si sa mai ragazzi Crime in punto net Non ci vado adesso Non si sa mai Tante volte Che altro c'è? C'è qui Qui cosa c'è? Qui Cosa c'è? Mmm Ciò che conta è aprire? Mmm Allora c'è Una sega Scassi una seratura E una pistola disegnata Proviamo la pistola ragazzi Mi piace Spettacolare Come film d'azione ragazzi Questa Trapano Trapano E forse Qua se butta giù una pistola 177 177 Uh Una telecamera Micà ragazzi Che mira Che è sta cosa Qua Scheda magnetica Va bene Proviamo la qua Quante volte c'è la Inserire Oh ragazzi Questo si chiama Bucio di culo A Roma è 23 Che butta giù No Niente Ci ho provato Proviamo Così A scassinarla Sentite I rumori Ragazzi Sono Spettacolari Sembrano Veramente i rumori De quando in fila Qua entra La seratura Non che gli faccia il ladro Però Spettacolare Che taglio ragazzi Mi resta chiude Alla Geronimo Oh Ci sta scritto pistola Ah ecco Dicevo Caricatore Mortacci Loro Poi che altro C'è qui Spettacolo Questa Spettacolo Dimmi che è pieno Dimmi che è pieno Non ti leggo Quel tavolo Conto Ah Ok Prometto che aggiungeremo Altre roba Oh Va bene Adesso È la tua Riservata Ah ecco Aspettate Infatti Lì vedo zero Va bene Io mi fido De lui Che altro C'è qui Armeria Non c'è un cazzo Non c'è un cazzo Ora è abilitato Questa è la parola di masche Non c'è più in effluzione Come è? Di momento come personalizzare le masche Ragazzi si può stare anche personalizzare le masche Una cosa spettacolare Un fucile Che spettacolo Che spettacolo Che spettacolo Ragazzi mi riguiterò con questo gioco Questo E munizioni Spettacolare Ule Ok Tieni anche Non mi sentire Perché non ho capito Che è un poligono Qui che altro c'è? Oh E questo che Che cazzo? Tapanare i cazzoforti E se sia l'abitato necessario A scassinarle Uh Vediamo Elementare No no Non facciamo pratica Vediamo come funziona Questa roba Tutto trapano 178 secondi Ma madonna Non ci mette così tanto Un ladro Che scassino Una cazzoforte Voi direte Non è tanto Però Se abbiamo fatto una cosa rapida 188 secondi Ma le umidità Io li vedo Poghi Quello non so io Vero no Qua stanno le armi Casi varie Una presa telefonica Eh telefonica Una presa Però corrente Che altro c'è? Non c'è sa più niente? Sì Già me l'hai detto prima Strons Boh finito Se lo vuoi si Vabbè Aspettate I cosi te spaccano Sì Sì Non mi ripeta Queste roba E me l'hai detto prima Quando dovrai Non tanti da la città Mi ringrazierò Vabbè Ma che se rompono Sti cosi? No Te rompono pure Trapoli Ma che cazzo Spettacolare Ragazzi Vabbè Se è solo questo O cavoro Ragazzi Abbiamo finito Cioè Cioè Mi sa che Mu aspetto che si finiscono Di aprire questi Nel frattempo Che cazzo faccio? Non ci sa più niente E cavolo Tanto è quello Qui abbiamo già visto Tutto quanto Fammi spegnere le luce Che Se consuma la corrente Mi chiede Se spaccano anche le luci Non pensavo Sì però Mi rampa il culo Vabbè Ragazzi Lo so che vi sto Sto raccassando il cazzo Sto aspettando Che si aprano Quelle minchia Di cazzaforti Scusa Ma qua Lure Non c'è Come cazzo Si illumina qua Cazzo di cane No Ci sono rimasto male Ragazzi Non c'è un cazzo Sto rumore Non mi piace Neanche quel colore Minchia Presa il volo Oh ma sempre questo Si rompe Che cazzo C'è uno Si aspetta Che finisce Si rompe pure Vabbè Allora Mamma 78 secondi Ancora 169 Minchia ragazzi Sentite qua dentro Che cazzo di casino Che taglia Spero che ho vissuto Una cosa Ah che paglia Hanno già cagato il cazzo Sto sai cosa Proprio tanto ragazzi Tanto tanto Ci mette pure un buato Per i coralli Poi ragazzi In se per sé Non sembra male come gioco Devo ammettere Questa è quella che sto utilizzando Adesso Scommetto Così Trappano Questo qua non lo conosco Fa una lama Sì Questa non lo conosco Così ho altre trezze Chi godere Chi goderemo Non so neanche cosa Cavolo sono Voi direte Perché cazzo Spari altri Il puto Di Oh Meglio Sto al buio No Vabbè Sto qua non La rompo Questi si In frattempo Che Mi sa che io Vi mando Leggermente A Ve lo rifizzare Questo pezzo Perché Ci mettono una vita Oh eccola Ecco Due Uno Farà piena Speriamo di sì Ragazzi Ma dai Magari Non ho preso più il culo Cioè Aspetta Avuto Sto tempo Che santa Si mette Tanta Cento Tre No Troppo Non ho già accaduto Cazzo Lararmi Tanti soldi Tutti I quali Voglio Sono Il re Del cavu No Niente C'è un cazzo Oppure Gli ragazzi Sesto cavu Diventerà Pieno 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 Per quanto Arriverà A quel Cosa H1 Tessero Una bella Domanda Tanto lo scopriremo Insieme Non vi preoccupate Tanto non vorrà Fino a nessuna Parte Certo Però Non so Pochi Sti soldi E devo essere Sincero Non sono Per niente Pochi Ah Che palle Corri 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 Proprio Proprio Questa Te doveva Rompere Eeeh Vabbè Emo Stai neanche Capare D'arbas Vabbè Stiamo a posto Questo Mi taglava pure Quasi finito Oh cazzo Me l'ho sbagliato Ok Ehm Dai Che ce la fai Dai 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 No che spettacolo Ragazzi Guardate qua O O V K L 2 S 2.0 Che Tario Oddio Una moto Sega Con Una cosa Dello Genre Non l'ho mai Vissera Però È moto Sega Travano Quello Che sta qua Anche Ecco Che si è via Travano Non ho mica Visto Gaffe Ragazzi Seconda Gaffe Anzi no Questa è la prima Gaffe Scusate Dai Apri Apri Dai cazzo Fai che sia pieno Eeeh Un cazzo Anche qui Ragazzi Odio quella Che hanno fatto Questo gioco Lui sta odiando C'è Potono me Ah Eccolo 2 1 Um Ah Soldi Quanto sarà Vabbè 1000 dollari Ragazzi Mi accontento Allora Qua non c'è Sà più un cazzo Quindi Quindi Che si fa Prova a mandare Al computer Danniamo Ma che mi fa uscire Ma io pensavo Che si vedeva Da là Mortacci Suo Sto bastardo Oh Vabbè L'accountessero Quanto Uno 1000 dollari Tanta roba Questo Di bello Oh Abilità 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 Andiamo avanti Vediamo Una carta La centrale Non si sa mai Che ci sarà Cos'è Armi Quelle sono Oh Ragazzi Le carte Ti regalano Una roba Una bella Revolver Il bronco 44 Tanta roba Mi piace Mi piace Mi piace Dai però Carica Che voglio vedere Quest'arma Punto utilizzabile 1 Guarda Qua l'inventario Hai appena Tenuto il tuo primo motivo Per la Se designano le maschere Le maschere Le problemizzazioni Ah sì perché ragazzi avevo un codice che avevo utilizzato Hai appena tenuto la mano ok Hai appena tenuto ok Ah Ah Che taglio Dove è quell'arma nuova Bello Spettacolare Ah qui i personaggi E' una E' una Da quando i passaggi Da finire le adottive Questo Ah Questo qua è il personaggio che scegliete Questo è l'adottive Di sicuro i giovaniti Fini all'esercito Diventò un eccellente Tutato Questo E' sicuro Spara bene Allora Il resto Niente Se cosa Le armi Ci abbiamo adesso Modifica Non ci abbiamo un cazzo Bene Mi ha un'abilità ragazzi Che cos'è sta roba E' un manipolatore con buona attività Mi raccomando Perché sta a gestire Unitivo di situazione Ah Che c'ha questo Ah questo è un Capicello Il kit medico Ah Che altro c'ha Uh Ragazzi che spettacolo Guardate che spettacolo Questo che cos'ha Sacca munizioni Uh Tanta roba Ragazzi Leggete bene Cosa c'è scritto Al lato destro Questo Tecnico Spesionista In applicazione Della scienza Criminale Adora tutto Ciò che esplode Tanta roba Questo ragazzi Se si arriva Di sicuro So le cose Quelle Che fa sorta In aria Eh sì Eh sì 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 Le mine a file Possono Carica Cave Utilizzare Per aprire Le mine Porte E casseforti Ragazzi Vado qua Che con questi Si fa prima E questo Che cos'è Impieghi meno tempo Anche questo va bene Buono 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 ragazzi Mi piace sta cosa Sì sì E ragazzi Ora vi saluto Perché Il video è abbastanza lunghetto Quindi ragazzi Ci vediamo alla prossima Commentate Spolliciate E fatemi sapere Cosa ne pensate di questo video E Ciao 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 Grazie.